Il contrasto ed elettorali dice il contrario. Però è peccato che tutto quello che ha detto Bocchino non c'entra niente con quello che abbiamo approvato ieri. Niente, primo punto, non riguarda i sindaci. Questa norma riguarda in particolare medici, professori universitari, direttori di carcere, persone della pubblica amministrazione e infine in ultimo i sindaci. I magistrati hanno avuto più reati di abuso d'ufficio persino a dei sindaci. Secondo, giustamente ha detto revisione, terzo, reati di corte andati in Cassazione e terzo grado condanna definitiva per abuso d'ufficio riguarda i favoritismi in cui si è girato gare d'appalto dandole a imprese che non avevano diritto. Questo che prima era abuso d'ufficio, oggi saranno salvati. Oggi il procuratore di Bari, in interviste sui giornali che probabilmente Bocchino non ha letto, ha detto che tutte quelle persone non saranno condannate e quei processi salteranno. Punto, finita la discussione. Andiamo perché se no si trasforma in un dibattito tra voi e invece vorremmo coinvolgere Alessandra Ghisleri perché nelle ultime settimane...